a lavorare la stana di Beppe Martinelli e la giornata è totalmente cambiata perché con il grande lavoro un po' di tutti, di Villella, di Zaitz e poi anche di Luis Leon Sanchez sembrava tutto preparato per l'attacco di Miguel Angel Lopez l'azione fra quelli davanti è stata scremata poi dall'accelerazione di Fausto Manznada bravissimo il bergamasco a partire a 18 km dal traguardo in una parte della salita non certo impegnativa perché il momento decisivo era quello di circa 4,5 km dalla conclusione dietro nel gruppo principale lavoro forte da parte della Mitchelton Scott con la stana prima difficoltà sia per Fabio Aru che per Chris Froome non brillanti ancora una volta il sardo e il chineano bianco ancora reduce evidentemente da qualche problemino fisico anche di natura psicologica dopo le due cadute Sergio Nou ha cercato di pilotare il proprio capitano sotto il gruppo dei migliori ma naturalmente il ritmo è stato indiavolato nel finale con un'accelerazione di Miguel Angel Lopez quella poi di Ciccone di Pozzo Vivo Massimo Iez ha controllato da padrone totale l'andamento della corsa e negli ultimi 200-250 metri è andato a vincere senza problemi davanti a Thibaut Pinot e davanti a Desteban Chavez che conferma di avere una grandissima gamba così come Domenico Pozzo Vivo e la conferma di Richard Carapaz vincitore a Montevergine di Mercogliano staccati di oltre un minuto invece Chris Froome e Fabio Aru che naturalmente vedono complicarsi la loro strada e il loro sogno rosa in vista di Roma Thibaut Pinot invece ancora una volta diciamo pure senza squadra ha fatto un lavoro eccellente perché le gambe sono sempre state dalla parte del francese 3, 2, 3, 1, 0